Ma c'è il ballottaggio, c'è un ballottaggio tra un esponente molto forte di Fratelli d'Italia, Michetti, e il suo ex ministro Gualtieri. Si aspettava che la Raggi di fatto si schierasse con Michetti? No, non mi risulta affatto che la Raggi sia schierata con Michetti, l'ho parlato ancora ieri. La Raggi farà opposizione, sarà una consigliera d'opposizione, farà opposizione rispetto al governo cittadino che verrà. Detto questo, io non credo che si possa... Io da cittadino romano ho a cuore il bene della capitale. La capitale tra l'altro è di tutti, ecco questo a me dispiace sempre che sia un atteggiamento anti-romano contro la capitale. È un patrimonio comune di tutti gli italiani, quindi tutti adesso dobbiamo augurarci che ci sia, si insedi un sindaco che faccia bene. Da Gualtieri e Michetti, assolutamente conosco Gualtieri, conosco il suo valore, Michetti non mi dà nessuna affidabilità. Sia per quanto riguarda quel poco, non lo conosco di persona, ma insomma quel poco che ho visto in qualche fuga, in qualche dibattito durante la campagna elettorale. Sia per le forze politiche di destra che lo appoggiano. Quindi io andrò a votare per Gualtieri. Non sto dicendo che il Movimento 5 Stelle debba votare per Gualtieri, perché gli elettori non sono pacchi postali. E poi bisogna tener conto della storia singolare in cui siamo arrivati su Roma della competizione. Aspetta, ne parliamo Maurizio.